L'anno scorso aprile è stato votato all'Abst, io siccome sono una che seguo, e chi segue sa, chi ovviamente non ha tempo per motivi vari, è stata votata la legge dell'Amiatto, che parte da molto lontano, da 10 anni fa, prima a livello nazionale e poi a livello regionale. Alla regione sono stati costretti a votare questa legge perché già da 20 anni la Sicilia è direttato. Qualcuno ha avuto la brillante idea, questo io devo dare atto, di inserire l'ospedale Muscatello come riferimento regionale per le patologie derivanti dell'Amiatto. Questa cosa, tra le altre cose, è stata molto combattuta perché sappiate che non è che ci serve di diritto, perché lavorano con gli altri. Quindi nelle opportune serie è importante sbattere le uomini, perché è nudo e l'ercivai col capellino. Ti vede una schiappa. È stata una presentata, non è vero che è passata inosservata, perché i giornalisti l'hanno pubblicata, è stata presentata in questa sala ed io ero sentita qua, quindi io la conosco, per me non è una novità. Detto questo, visto che la legge 5 a noi non ci sferta, visto che nonostante questa legge dell'Amiatto, quindi è un valore aggiunto all'ospedale nostro, sapendo quello che succede al governo regionale, io so che noi non raggiungeremo questo obiettivo, perché i soldi ci sono, per me sono destinati, è la scelta che destina i soldi altrove ed è giusto che si dica, perché se non ci giriamo intorno. Parliamo della provincia Brucanetta. Brucanetta è una persona messa dal governo regionale. Io ti metto qua, tu devi fare quello che dico io, se no te lo hai, avanti un altro. Quindi, che vogliamo fare? Hanno detto che vogliono fare dei tre parti, io qua ho le piantine dell'ospedale, dove le vogliono fare queste cose. Allora, patrione l'uomo, piano, piano, piano secondo, cardiologia, chirurgia, ma se stanno facendo di tutto per portare gli altri uffici e li vogliono piazzare qua, che menzogna è questa? Questa è una menzogna bella e buona, fanno credere delle cose che non, qua io abbiamo, attenzione io non invento niente. E allora, qui si gioca, si gioca di brutto, perché questi cento di posti letto non li vogliono mettere. Se non ce li mettono nel paniglione nostro, dove li vogliono mettere? Io ho tutte le piante, chi li vuole vedere con pretenzione, non nego niente. Quindi, all'ultimo piano ci andranno il blocco corretore, che stessia, consultorio e etnoscopia, che l'ultimo piano è quello che praticamente collega il tunnel. Ora, se non arrivo i soldi, tutto questo cosa serve? Tutto questo, cosa serve? Ve lo dovete dire voi? Io lo voglio sentire da voi. Quando si parla di potenziamento, potenziamento significa che le cose non vogliono arrivare. Ma se a Siracusa ancora giorno e ti smondono gli ospedali e sprecono e sperano i soldi. Come lo vuoi sistemare la questione? Ora, io devo essere ottimista? No. Questa legge nazionale non l'ho fatta io. Non si possono avere reparti che siano uguali. Allora, io voglio capire perché ci stanno togliendo la mediatria, che può essere utile in un territorio di alto rischio industriale, quindi bambini hanno patologie di vario genere, per risparmiare praticamente. Però mi vanno a piazzare un'opulistica, tutto guarda, guarda, guarda. Che è un'opulistica? per chi non lo sa, c'è in tutti gli ospedali della provincia. E a 200 metri ce l'andiamo anche a Piazzaro, su che è anche tra le altre cose puntuabile. E allora, chi si vuole favorire? Chi si vuole favorire? Allora, non è la legge che lo prevede. Qui c'è una gestione proprio personale per i problemi proprio privati. Qualcuno vuole intrascare di più. A discapito, perché non dobbiamo dire, è a discapito delle persone. Non gliela prevede niente se tu rimani in mezzo a una strada con un papile e tumore, l'importante è che loro guadagnano. Questo non è legge. Questa è gestione personale. Ecco per me io mi dico, signore, lei deve essere calma, no? Possiamo giocare con quello che volete, ma non giochiamo con la salute, non prendiamoci in giro. E ci stanno prendendo in giro. Quindi io quanto ci devo credere? Quanto posso essere d'accordo io? Zero. E mi pare che sia stata chiara. Io ho voluto questa sera questa assemblea, insieme al signor Frunciati. Io non sono nuova di queste cose e li conosco bene. Infatti su Facebook non ho voluto per meno commentare, proprio per evitare questo. Mi sono attenuta e non ho risposto. Qui c'è gente che ci marcia, vuole guadagnare chi ha più ha più vuole. E che è questo? No signora, non sono, sono i politici. Lasci perdere. Non sono i politici che sono dentro gli ospedali. Dentro le altre. Dentro le altre. Ci siamo? Oltre lo vostro ruolo. I politici le nominano. I dirigenti. Non sono i diritti. Non sono i diritti. Io concludo così. Perché voglio essere, voglio essere, io se c'è qualcuno, infatti sono stata chiara dicendo, vuol vedere chiunque in questa assemblea, qualcuno se ha appunto o vuole parlare tranquillamente, è libero di dire quello che vuole. L'importante è che parliamo proprio del corso della questione. Grazie. 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 Grazie.